Ciao, sono Lorenzo Sturi, sono un centrocampista e sono della classe 99. Sono They. Aumenta Lori, aumenta Lori, su vai su. Dai su, su! Veloce Lori. Veloce Lori! Veloce! Veloce Con l'altro piede Lory Con l'altro piede Con l'esterno adesso Con l'esterno Vai Andiamo Sì Bravo Andiamo Anche perché va bene Siamo tutti veloci Sì Ti apro Sì Porta di là Dai Dai Posto Bene Lory In ampiezza con le spalle Bene qua il passaggio Sì Sì Bravo Lory Molto bene Dai Via dal campo Veloce Bravo Buona